La vitalità cristiana della Polonia è stata al centro del discorso del Papa e Vescovi al termine della visita ad Limina. Papa Francesco ha sottolineato gli aspetti positivi della vita ecclesiale del Paese, che verrà segnata, detto, dalla canonizzazione di Giovanni Paolo II, ormai prossima. La formazione dei sacerdoti è di qualità, deve venire sempre accompagnata da un'adeguata formazione umana. Le famiglie vanno poste al centro dell'attenzione pastorale della Chiesa e le giovani generazioni vanno incoraggiate nel loro cammino di fede. Papa Francesco ha parlato anche della prossima giornata mondiale della gioventù come di un'occasione da cogliere e le difficoltà della vita consacrata, aggiunto, con il calo delle vocazioni, indicano che i Vescovi devono impegnarsi sempre in questo settore. Non deve infatti mai mancare lo spirito missionario e le comunità devono essere luoghi di fede viva ed autentica.